Lo sviluppo sostenibile ormai è al centro di politiche, di scelte aziendali, per questo servono figure professionali in grado di gestire la complessità, perché portare un paese, un'azienda, una regione, una città verso lo sviluppo sostenibile richiede un pensiero integrato ed è uno dei compiti che l'ASVIS realizza attraverso il suo rapporto, attraverso tante iniziative che aiutano le istituzioni, ma anche i privati e anche le persone a cambiare mentalità, a introdurre nuove tecnologie, a cambiare governance dei sistemi. Per questo la scuola estiva di sviluppo sostenibile è così importante.